L'agricoltura ha fatto sempre socialità fin dall'inizio, è un ambito inclusivo, ma l'agricoltura sociale è un fenomeno particolare, è la caratterizzazione di tutti quei processi inclusivi, sociolavorativi, terapeutici, anche di socializzazione che avvengono in ambito agricolo. L'agricoltura sociale è una realtà ben radicata in Ticino, abbiamo oltre 10 aziende agricole e sociali che occupano in totale più di 350 persone con disabilità o esclusa del mondo del lavoro, quindi che ogni giorno si occupano, curano e aiutano e sostengono queste persone e dall'altra parte producono la frutta, la verdura, insomma tutto quanto di buon cibo locale chilometro zero a Ticino. Ecco, l'ambito agricolo è interessante sia perché formiamo ragazzi in agricoltura in un percorso biennale dove vengono qui a Mezzana per quella che è la parte teorica e da noi invece curano l'aspetto pratico seguiti da formatori specializzati e formati per questi ragazzi, ma anche perché accogliamo ragazzi che non sanno bene cosa fare con un progetto della Fondazione Sant'Angelo. Accogliamo questi ragazzi per un periodo, subito dopo, quando hanno finito una determinata formazione, non iniziano a lavorare, non sanno bene cosa fare e vengono ad aiutarci con questo progetto che noi chiamiamo Ritrovare la strada. Allo stato attuale non c'è una grande consapevolezza e anche del potenziale che c'è nell'agricoltura sociale ed è per questo che oggi c'è stato questo primo incontro dove hanno preso parte sia aziende agricole e sociali ma anche alcuni distributori, quindi la parte più economica, proprio per cominciare a parlare di agricoltura sociale e a capire che c'è un potenziale importante da valorizzare in Ticino. Come cari Tasticino da anni ci occupiamo di agricoltura sociale e quindi siamo stati partecipi da subito con la divisione dell'azione sociale nell'immaginare un percorso territoriale che potesse dare maggiore consapevolezza agli attori, quindi alle aziende agricole, alle aziende sociali, ma a tutti coloro che in qualche modo sono coinvolgibili in questo percorso di un'apertura, di una discussione, di una riflessione più ampia intorno al tema dell'agricoltura sociale. Ci accorgiamo che specialmente nel mondo dell'agricoltura si ha una visione molto settoriale, cioè ognuno è all'interno della propria azienda ma c'è poco scambio, per cui il potersi mettere in rete e condividere un progetto che comunque è comune, quello dell'agricoltura sociale lo troviamo essenziale, importantissimo, quindi spero davvero che da questo momento di oggi venga fuori un progetto futuro, ma più che altro per i ragazzi, per i giovani, per gli adulti che si formano e che si ritrovino all'interno di un mondo del lavoro che li accolga. Quindi le persone che arrivano da noi inserite dentro i percorsi, che possono essere disoccupazione o assistenza, partecipano a tutti i processi produttivi, verificano da subito, quindi partecipando a tutta la filiera, dalla semina, ai trapianti, alla manutenzione delle piante, alla raccolta, alla vendita dei prodotti. In tutto questo ciclo la partecipazione delle persone inserite, che quindi svolgono un programma da noi, aiuta a far maturare delle competenze specifiche, perché la nostra azienda si caratterizza per fare inserimenti sociolavorativi, per cui finalizzati anche al lavoro, per cui si possono apprendere cose nuove, si apprende il lavoro in un ambito diverso e in qualche modo si aprono prospettive di lavoro a partire da un percorso di agricoltura sociale. L'agricoltura sociale, così come l'agricoltura, è importante perché coltivazione vuol dire piantare il seme e vederlo crescere. Io ho dei figli, insomma, quando li vedo con sorpresa vedere la piantina che cresce, raccogliere il pomodoro, mangiarlo caldo, quindi è comunque un nutrimento, è poter vedere e avere anche la responsabilità di piantare qualcosa che cresce e che vive. Questo fa sicuramente bene, fa bene ai bambini, fa bene a tutti noi, e fa bene anche a queste persone escluse dal mercato del lavoro con problemi che ritrovano con il loro ritmo, la natura anche un ritmo lento, il piacere di stare in compagnia, di discutere e piano piano ritrovare una loro autonomia e poter magari camminare poi con le proprie gambe. Quello che è il nostro obiettivo è formare questi ragazzi all'arco dei due anni per poi inserirli nel mondo del lavoro vero, per cui cerchiamo sempre delle aziende sensibili con le quali collaborare, che accolgano i nostri ragazzi in stage e dopo che magari li assumano anche nel momento in cui finiscono la loro formazione biennale. L'ente pubblico sostiene queste imprese sociali, già da anni insomma, ci sono dei contratti di prestazione, quindi da già un contributo importante, finanziario ma anche di coordinamento. La giornata di oggi sull'agricoltura sociale vede chiaramente promotore il cantone attraverso il DASF ma con una serie di partner, tra cui Cari Tasticino, ma è solo l'inizio. In realtà il percorso perché possa portare realmente dei buoni frutti ha la necessità di vedere protagonisti delle imprese, che siano imprese sociali o aziende agricole piccole, familiari, aggregate intorno a un'idea. Questa è l'unica possibilità perché questa dimensione di rete sia realmente efficace e porti buoni risultati. Quello che si è fatto oggi è un inizio soprattutto per fare in modo che siano gli stessi imprenditori sociali, gli stessi organizzatori, che sia in fondo il mondo già produttivo che si organizzi, con il sostegno e facendo in modo che il cantone possa sostenere e magari mettere più in rete questa realtà. La rete prevalentemente siamo noi, per cui siamo noi che dobbiamo collaborare, dobbiamo valorizzare le risorse che ci sono e che esistono, seppur piccole, anche delle aziende piccole, ma parte proprio dalla volontà di ognuno di noi di guardarsi un po' in giro e di partecipare, proprio una compartecipazione di tutte le aziende. Sicuramente la rete crea magari delle misure nuove, delle nuove sinergie, delle collaborazioni magari inaspettate, tra enti che lavorano con le medesime persone, delle nuove opportunità sia per le persone che lavorano con disabilità, ma anche con persone che sono attualmente a beneficio di assistenza. Sicuramente la rete porta consapevolezza e discussione. Poi sulle misure e gli effetti concreti questi non li possiamo sapere a priori. È comunque importante dare valore. Quando si arriva all'overciano già si sa che all'interno ci sono dei ragazzi che hanno determinati bisogni e quindi una certa sensibilità da parte di chi acquista i nostri prodotti c'è evidentemente. Acquistare un prodotto di agricoltura sociale vuol dire fare una scelta consapevole che sostiene un percorso che produce un prodotto buono, un prodotto di qualità, un prodotto di qualità anche ambientale, ma soprattutto produce inclusione sociale sul proprio territorio. Il Ticino è molto piccolo. Abbiamo tantissime opportunità perché le aziende sono tutte piccole, anche le aziende familiari, insomma quelle agricole sono familiari. C'è un grossissimo potenziale anche di prodotti locali da far rinascere magari, da ritrovare dei prodotti che c'erano una volta e non ci sono più, di andare nelle scuole, spiegare ai bambini la natura e l'importanza della protezione del paesaggio o su altri progetti che sono stati sostenuti in questi anni sulle neofite invasive, non è agricoltura ma è sempre protezione del territorio. Ecco, fare in modo che ci sia consapevolezza in quello che il nostro territorio, il nostro cantone ha come valore da difendere e da passare anche alle generazioni future. L'ambito agricolo, cioè la produzione di verdure e frutta per il proprio territorio, ha in sé oggi una grande forza che trova proprio nella territorialità e nel marketing territoriale il proprio valore. I giovani sono i primi che colgono questo e tante imprese giovani nascono a partire proprio da realtà come queste, di agricoltura sociale. Il territorio ticinese diciamo che ha sicuramente tanti benefici da trarre dall'agricoltura e dall'agricoltura sociale. Questo non dipenderà solo dal cantone, dipenderà da tutti quanti noi, da consumatori, quindi quando i consumatori scelgono e vanno nel supermercato sono i primi, loro che faranno il successo meno dell'agricoltura sociale e non l'importante che sia locale, sostenibile, sociale è sicuramente un valore aggiunto, ma soprattutto questo valore aggiunto del prodotto locale, il chilometro zero, sostenibile e anche magari biologico. Ecco allora che produrre in modo biologico è un richiamo a un'etica produttiva che nell'agricoltura sociale è tipica, è la sua cifra in qualche modo. Ritroviamo esattamente in un prodotto di agricoltura sociale biologico quella circolarità che il consumatore in qualche modo si attende. Per i nostri ragazzi è importantissimo vedere dall'altra parte qualcuno che apprezza quello che loro fanno, il loro lavoro e quindi anche le loro produzioni, per cui adesso per esempio abbiamo avuto la possibilità di collaborare con alcune aziende e abbiamo iniziato a fare dei lavori per conto terzi. I ragazzi sono contentissimi, sono molto motivati e hanno voglia di dimostrare che anche loro riescono a far qualcosa di buono e a farlo bene anche, non è soltanto far qualche cosa ma riuscire a farlo anche bene. E per noi l'obiettivo è proprio quello, formarli per poi inserirli nel mondo del lavoro vero. L'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro è una grande sfida che riguarda il nostro cantone. L'agricoltura è uno sbocco che c'è già, che si può valorizzare ma ce ne sono altri. Credo che la grossa sfida del cantone nei prossimi anni sarà trovare il modo per fare sì che queste persone che sono in una situazione momentanea di difficoltà o anche più strutturale possano comunque avere una propria autostima, una propria autonomia e di poter progettare il loro futuro.